scompartimento numero 6 è tratto da un libro ma vedendolo mi ha fatto pensare a un altro libro italiano di Italo Calvino che si chiama se una notte d'inverno un viaggiatore non so se poteva esserci un'assonanza è per me un libro sconosciuto ma grazie del consiglio lo leggerò è un libro bellissimo quindi te lo consiglio e soprattutto richiama alcune tematiche che poi tu hai messo nel tuo film ti chiedo il viaggio in un treno rappresenta sempre molto la protagonista cambia alla fine però quanto sei cambiato tu dopo averlo girato io penso che essere umana cambia ogni giorno un po' e questo è stato molto tempo per fare questo film era un esperienza molto intensa sicuramente mi ha cambiato molto il film parla della provare di accettare se stessi e accettare la propria mortalità forse dopo aver fatto questo film riesco accettare meglio me stessa il fatto che la vita non è eterna non si è stato facile girarlo anche per una questione di location per una questione di climatica ci sono ambientazioni estreme quindi che sfida è stata poi appunto girarlo costruire il setto? il poco spazio era sicuramente la sfida più grande ma l'abbiamo scelto noi di filmarlo in uno scompartimento di un treno nel fare i film ci sono sempre tante sfide cinema e così però è come nell'amore se uno ama deve soffrire non si può escludere le sfide difficoltà durante un processo di un film però uno può decidere come il proprio attitudine verso le sfide se sono positiva oppure negativa se uno lavora in un luogo più controllato come può essere uno studio cinematografico le sfide sono più controllate ma sono anche più noiose ultima cosa che ti chiedo la protagonista interpretata da sedia Arla parte per cercare degli antichiissimi manufatti archeologici tu invece quando inizii a girare un film cosa cerchi alla fine? il film inizia sempre da una sensazione io cerco il film all'inizio non so cosa sto facendo sono interessata e vado a chiedere perché sono interessata questo tema la sceneggiatura è una ricerca continua alla fase di scrivere la sceneggiatura mi domando che cosa sto facendo e perché mi interesso di questo processo per me è sempre più la ricerca che realizzazione di un'idea che ha avuto e per questo è sempre in mutazione continua non potrei mai promettere a nessuno che sto facendo un film così e così perché il processo del farlo cambia tutto grazie 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 grazie